Con Fabrizio Petrone commentiamo questa partita, il primo set è andato tutto bene, poi cosa è successo? Già il primo set è combattitissimo, siamo riusciti a sfondarla sul 26-24 grazie alla concentrazione che siamo riusciti a tenere. Poi la partita è scivolata un po' sul binario, come dicevo ieri, il risultato dell'emotività e un po' il nervosismo ci ha tradito. Comunque complimenti a questo ammessario che ha rispondato. Cosa bisogna fare per ripartire, per fare quei punti che mancano alla salvezza? No, già si sapeva oggi, già ieri avevamo detto che era una partita 1x2, quindi il risultato non era scontrato. E' un derby, le due squadre ci decono a giocarlo bene, quindi così all'andato è andata bene a noi, a ritornare davvero dopo. Le partite salvezze sono altre, sono altre, sarà come nel caso con Terrasini, in casa non siamo a Galbaruso e in Lavenza, quindi ancora c'è un po' di tempo per preparare. Ovviamente dobbiamo subito ripartire, non pensare a questa partita perché ci tenevamo tutti quanti e ovviamente non deve lasciare strascini. Siamo assolutissimi.